C'è chi ha smesso di studiare, chi magari si è laureato e non ha trovato uno sbocco professionale, chi ha perso fiducia in se stesso e alla fine ha smesso di cercare lavoro. Sono i NIT, i giovani tra i 15 e i 29 anni, che non studiano e cercano lavoro, a cui si aggiungono i drop-out, quelli che hanno abbandonato il percorso di istruzione e formazione. Di loro e con loro si è parlato all'evento Futuro in Garanzia, organizzato dalla Regione Toscana a Firenze, presenti i rappresentanti delle istituzioni regionali, nazionali ed europee, ma soprattutto loro, i ragazzi, che con il programma Garanzia Giovani, lanciato a livello comunitario nel 2014, hanno trovato un lavoro. In Toscana sono oltre 50.000, a fronte di 70.000 presi in carico dai centri per l'impiego nella prima fase del programma, con un budget di 65 milioni di euro. Ma come è stato ricordato nel corso dell'evento, in tema di politiche per i giovani in Europa, la Toscana fa scuola da tempo, fin dal 2011, con il programma Giovani sì, per il quale sono stati utilizzati 720 milioni di risorse regionali. La Regione Toscana è stata antesignana nel proporre un brand comunicativo Giovani sì, per le politiche giovanili, con misure diverse, che ha coinvolto oltre 250.000 giovani dal 2011, che ha permesso a tanti giovani, giovani fino a 40 anni, perché lì il target su Giovani sì è questo, di conseguire un'autonomia, quindi di realizzare un progetto di lavoro e anche di vita autonoma. Diciamo che l'Unione Europea ci ha detto più volte che Garanzia Giovani si è molto ispirata al programma Giovani sì di Regione Toscana, quindi insomma abbiamo anche questo orgoglio. Un orgoglio tradotto in numeri nel corso dell'evento in Regione, che porta la Toscana ad avere una media di nitte inferiore a quella nazionale. Il tasso di giovani che non studiano né lavorano è calato di oltre il 2% tra 2014 e 2016, mentre quello dei drop out è sceso del 2,3%, una delle riduzioni più drastiche tra le regioni italiane, segno che le misure stanno funzionando, in particolare i tirocini. Garanzia Giovani è stato un passo ulteriore, perché qui anche a livello nazionale abbiamo avuto un beneficio importante come integrazione di politiche, questa volta fra vari livelli istituzionali, perché naturalmente c'è l'Unione Europea, c'è il Ministero del Lavoro e adesso ANPAL, ci sono le regioni. Quindi abbiamo sperimentato con garanzia Giovani, un modello di misure standardizzate, però anche poi applicabili in maniera peculiare ai vari territori. Questo è il modello che poi ci servirà per le politiche attive in generale, quindi non solo per i giovani. L'esperienza toscana interessa molto anche a livello europeo, dove si dettano le linee della politica per l'occupazione dei giovani, azioni, misure e sostegni che fino a poco tempo fa mancavano e rendevano ancora più arduo l'accesso al mondo del lavoro. Partivamo da una situazione, soprattutto nel nostro paese, in cui c'era praticamente un'assenza di politiche rivolte specificamente ai giovani. Ovviamente non mi rivolgo alla Toscana che è stata un po' il precursore con il programma Giovani sì e già si era fatto tanto, ma in altre realtà invece i giovani erano lasciati un po' a loro stessi. Quindi il programma in Italia ha avuto tanti meriti, innanzitutto di strutturare le tipologie di azioni e il tipo di approccio verso i ragazzi in modo uniforme in tutto il territorio nazionale, quindi cercando di dare come struttura un accoglimento, una profilazione e un incoraggiamento all'accompagnamento al lavoro in modo uniforme da Trento alla Sicilia, per parlarci chiaro. I risultati non si sono fatti attendere, ci sono state oltre 1.200.000 iscritte alla misura. A descrivere in numeri l'attuazione del programma Garanzia Giovani in Toscana è stata la ricerca di IRPET presentata nel corso dell'evento Futuro in Garanzia. Dall'aprile 2014 a tutto il 2017 le adesioni sono state 110.000 con una media di 240.000 al mese. Chi ha proseguito il percorso, come i ragazzi che hanno raccontato la propria esperienza, è stato indirizzato ai centri per l'impiego e da lì nel 52% dei casi ha trovato lavoro nel giro di quattro mesi. Ma perché in Toscana le cose sono andate così? Perché forse avevano capito prima, so che la vostra classe dirigente è molto attenta alla proiezione dei giovani per il futuro e l'importanza di inserire e di avere una classe giovanile che sia ben inserita nella società e nel mondo del lavoro e quindi c'era stato questo programma che poi è stato anche un pochino un'ispirazione insieme ad altri programmi come quello finlandese e svedese ad esempio, vi parlo dal punto di vista europeo, c'erano varie realtà come quella toscana, come quella finlandese e svedese che poi sono stati i modelli per la comandazione europea. Nella prima fase di Garanzia Giovani sono state attuate misure di reinserimento nel percorso di istruzione dei ragazzi che ne erano usciti, il servizio civile, l'autoimprenditoria e i tirocini che in termini occupazionali, numeri alla mano, sono quelli che a distanza di 12 mesi garantiscono ancora la permanenza dei giovani nel mondo del lavoro. Ora si guarda alla seconda fase per la quale sono in arrivo altri 29 milioni e mezzo di euro. La seconda fase i finanziamenti sono un po' inferiori quindi abbiamo deciso di puntare su quelle misure che ci sembrano oggi più importanti, quindi interventi che magari prima avevano uno spazio più limitato come ad esempio la formazione per l'assunzione e percorsi individuali o individualizzati quindi per gruppi di NIT molto molto piccoli da 1 a 3 mirati all'inserimento lavorativo. Poi comunque le misure del tirocinio, del servizio civile continueranno ma le andiamo a finanziare con il fondo sociale quindi proprio in questa sinergia di finanziamenti, dediceremo garanzia giovane agli interventi che ci sembrano adesso più importanti in questa fase in termini di percentuale di disoccupazione giovanile e anche di richiesta delle imprese più produttivi appunto a creare effetti immediati. Le esperienze raccontate dai ragazzi con schiettezza e anche con un pizzico di autoironia sono le più disparate da chi ha capito una volta indirizzato quale realmente fosse la propria strada a chi ha coronato il proprio sogno di aprire un'impresa. La mia idea imprenditoriale era una linea di borse personalizzabili chiamata Villa 31 e al momento siamo sul mercato da settembre 2017 e siamo molto contenti. Da una scuola dove io avevo iniziato come idraulico mi sono trovato bene con la saldatura non sapendo di questa cosa e anche l'insegnante se ne è accorto e diciamo che ora lavoro e mi trovo davvero bene. Tramite Garanzia Giovani ho trovato la possibilità di fare un tirocinio in un'azienda e alla fine di questo percorso mi hanno fatto un contratto e adesso me l'hanno anche rinnovato sempre a tempo determinato però insomma questa cosa mi ha permesso poi di avere più, insomma raggiungere la mia autonomia e di riuscire ad andare anche a vivere da sola. Ho fatto percorsi 2200 ore, da lì si è fatto il tirocinio che mi ha fatto comunque entrare in questo mondo e ora avendolo già finito ho avuto subito un contratto nemmeno a una distanza di una settimana dalla conclusione. Garanzia Giovani si attua in complementarietà e a integrazione con gli strumenti del Fondo Sociale Europeo che oltre ai NIT pensa anche alla formazione specialistica e di alta formazione per gli under 30. I settori in cui i giovani finora hanno trovato più sbocchi attraverso Garanzia Giovani sono quelli del commercio e del tempo libero, nel 31% dei casi, del made in Italy e dei servizi alla persona nel 13% dei casi in entrambi gli ambiti. Non vuol dire che non ci siamo da migliorare, non parlo a livello toscano solo, parlo a livello europeo in generale. Per esempio la qualità dell'offerta non è sempre all'altezza di quanto ci si aspetta, non sempre si riescono a rispettare i quattro mesi entro i quali si dovrebbe fornire un'offerta e poi ancora più importante forse è che per oltre la metà dei giovani che si iscrivono non si sa poi quali siano i risultati, quindi non si sa se e quali risultati ci si siano ottenuti. Quindi su questi aspetti sicuramente l'Europa si aspetta che ci sia un miglioramento. Ciò è stato accompagnato da un'ulteriore iniezione di fondi e quindi con questi fondi ulteriori si spera di riuscire a migliorare ancora più i risultati. Risultati che ora spingono ad andare avanti e ad aiutare con l'arrivo dei fondi per il 2018-2020 i ragazzi a superare le fasi di stallo che rischiano di interrompere il loro percorso verso il lavoro. Dovranno essere, io dico sempre, imprenditori di se stessi, cioè la capacità di intraprendere e quindi di non stare ad aspettare occasioni che vengono dall'alto ma anche centrare quelle che sono le proprie attitudini, le proprie capacità, valorizzare se stessi, avere delle opportunità. Ecco questo li educa anche poi a rendersi protagonisti anche di cambiamenti perché il mercato del lavoro sta cambiando, tutti ce lo dicono. Noi vogliamo dare una mano a questi giovani e lo facciamo con convinzione, con determinazione mettendo appunto queste politiche al centro delle politiche di regione toscana con l'aiuto anche naturalmente della comunità europea, come dicevo prima, di Ampal, però li vogliamo aiutare ad avere opportunità anche in Italia. Ora i risultati ottenuti in Toscana e le esperienze raccontate dai ragazzi conteranno molto nella programmazione futura delle risorse europee per l'occupazione dei giovani nel post-2020. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS